Nell'ultima settimana dell'anno 2020 i casi di influenza stagionale sono stati pochi rispetto allo stesso periodo del 2019, quanto rivela il report realizzato da InfluNet, la rete di sorveglianza ministeriale in servizio. Le restrizioni imposte per arginare il contagio da coronavirus hanno bloccato anche la diffusione dell'influenza stagionale in Puglia, dove tra il 21 e il 27 dicembre scorsi si sono registrati 136 casi su 85.257 persone visitate dai medici di base. E' quanto emerge dal report elaborato da InfluNet, la rete di sorveglianza coordinata dall'Istituto Superiore di Sanità con il sostegno del Ministero della Salute. Nel rapporto si evidenzia che l'incidenza è stata pari a 1,60 casi per ogni 1.000 abitanti contro l'1,30 della settimana precedente a quella esaminata. L'incidenza maggiore, pari a 3,52, si registra tra i bambini da 0 a 4 anni, mentre la più bassa si ha negli over 65. Nella fascia di età compresa tra i 15 e i 64 anni, il rapporto di incidenza è di 1,46 casi ogni 1.000 assistiti. In Italia, nella fascia di età 0-4 anni, l'incidenza è pari a 3,03 casi per 1.000 assistiti, nella fascia di età 5-14 a 1,12, nella fascia di età 15-64 a 1,46 e tra gli individui di età pari o superiore a 65 anni a 1,25 casi per 1.000 assistiti. L'incidenza pugliese è di poco superiore a quella nazionale. In Italia, infatti, nella 52esima settimana del 2020, l'incidenza delle sindrome simili-influenzali ha continuato a essere stabilmente sotto la soglia basale, con un valore pari a 1,5 casi per 1.000 assistiti. Nella scorsa stagione, in quella stessa settimana, il livello di incidenza era pari a 3,9 casi per 1.000 assistiti, evidenzia il report.